Si ricorda il tenente part-right che è caduto il 14 settembre del 1944 che è stato abbattuto dalla contraerea tedesca. Marco Garavaglia aveva trovato nel registro della chiesa parrocchiale l'atto di morte e da lì diciamo che nel 2003 è questo. E da lì si è tutto fermato fino a gennaio di quest'anno quando hanno richiesto alla biblioteca di Bernate il punto di caduta dell'aereo perché questi ricercatori dell'Aercrash Po, sono dei ricercatori archeologi militari, sapevano che era caduto questo aereo e hanno chiesto alla biblioteca di Bernate. Il bibliotecario di Bernate si ricordava di un libro fatto nel comune a Bofarora in cui era riportata la storia di questo pilota e da lì è nato tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti per la famiglia di Harry e a Bofarora in cui è il mio paese. Grazie a tutti. È la sorella del pilota che è morto il 14 settembre 1944 qui e che noi oggi onoriamo 70 anni dopo la sua morte, non che non gli sia stato reso onore prima come uomo delle forze armate americane che ha dato il supremo sacrificio della sua giovane vita per il suo paese e per il nostro, per la libertà. Ma in tutti questi anni non è passato un giorno in cui lui sia stato dimenticato dalla sua famiglia e dagli abitanti di Bofarora che hanno dato a suo fratello una sepoltura. Sua madre andava alla messa tutte le mattine alle sei e mezza e pregava il padre che proteggesse il suo primo figlio. Le sue preghiere sono state ascoltate con le persone di questa città così lontana da dove Harry abitava.